Negli ultimi mesi abbiamo fatto tanta strada insieme. A bordo delle ultime novità Renault abbiamo vissuto molte avventure ed emozioni. Con Captur ci siamo lanciati alla scoperta della suggestiva costiera amalfitana e dell'opera magica di Zaha Hadid, mentre con il Coleus abbiamo scalato le cave di marmo di Carrara alla ricerca di Michelangelo. Sono state avventure straordinarie vissute in pieno comfort e con il massimo della tecnologia. Non ci siamo fermati, siamo andati avanti presentando in digitale per Ginevra l'elettrificazione del gruppo per migliorare il futuro del nostro pianeta. Oggi siamo a casa ma il nostro viaggio continuerà presto. Renault pronti per ripartire insieme.